Storia di Iqbal, capitolo 15 Era un giorno di novembre e cadeva una pioggerellina fitta e noiosa quando Esan Khan convocò me e Iqbal nel suo ufficio personale ed era una novità. Esan Khan era sempre disponibile, ma quando si chiudeva nel suo ufficio, guai a disturbarlo. Questa era sempre stata la regola. Entrammo in un piccolo locale, intonacato a calce, che a differenza del resto della casa, piena di oggetti, colori e confusione, era invece spoglio e ordinatissimo. Una scrivania coperta di carte ben impilate, il telefono, una sedia dall'aria non molto comoda, l'occorrente per prepararsi il tè e un forte odore di tabacco. Esan Khan camminava avanti e indietro, impaziente, con gli occhi che gli brillavano. Stringeva tra le mani un pallone coperto da tanti disegni colorati. L'avevamo già visto qualche volta e pensammo, oh no, lezione di geografia. Ma non sembrava il posto adatto. Esan Khan fece ruotare il pallone e ci indicò una vasta distesa di terra colorata in giallo. «Questi sono gli Stati Uniti», spiegò. «Sono un grande e importante paese». «Lo so», disse Iqbal, che sperava di schivare la lezione. «È dove fanno le canzoni». «Dove c'è Hollywood», gli diedi Manforte e io, «e i divi del cinema». Esan Khan ci mostrò un puntino sulla costa di un mare sterminato. «Questa città si chiama Boston», continuò ignorando il nostro sfoggio di cultura. E qui ogni anno viene assegnato un premio che si chiama «Gioventù in azione». Viene dato a un ragazzo che si sia particolarmente distinto in qualcosa di utile, in qualunque paese del mondo. Il premio lo dà la Reebok. «Lo so», insistette Iqbal, «fanno le scarpe». Erano mesi che sognava un paio di Reebok, ma costavano troppo. «Il premio è di 15.000 dollari». «Quante rupie sono?» chiesi. «Tante! Più di quante noi possiamo immaginare». Il premio, quest'anno, è stato assegnato a Iqbal. Ci fu un lungo silenzio. «A me?» mormorò Iqbal smarrito. «Sì», confermò Esan Khan. «E sai cosa significa?» «Che adesso tu sei famoso in tutto il mondo. E che tutti sanno cosa succede in Pakistan ed è la nostra lotta per l'abolizione del lavoro minorile. Vuol dire che d'ora in poi loro dovranno stare attenti prima di toccarci. È una vittoria, Iqbal, ed è merito tuo. Io e te andremo a Boston a ritirare il premio. E prima, fece ruotare ancora il mappamondo, ci fermeremo qui». E ci indicò una regione a forma di cane. «Questa è la Svezia», spiegò. «E cos'è?» «Un paese dove fa molto freddo, in Europa. Ci sarà una conferenza internazionale sui problemi del lavoro. Verranno da tutto il mondo. Vogliono sentirti parlare». «A me», domandò Iqbal. Eravamo increduli, a bocca aperta. Sembrava un sogno. Sembrava una favola, una di quelle storie che i genitori si inventano per fare addormentare i bambini. Non potevamo credere che qualcuno, in quel lontano e sconosciuto posto che chiamavano mondo, sapesse della nostra esistenza e delle nostre sofferenze. «Noi non eravamo nessuno. Eravamo degli straccioni che fino a un anno prima lavoravano con una catena ai piedi. E tutta quella gente importante voleva ascoltare Iqbal». «C'è di più», aggiunse Zan Khan. «Un'università vicino a Boston ti ha assegnato una borsa di studio. Vuol dire che potrai studiare, laurearti. non volevi diventare avvocato?» Iqbal fece segno di sì con la testa, smarrito. Troppe novità, tutte in una volta. Guardava alternativamente me ed Zan Khan. «Ma allora», mormorò, «Partiremo, staremo via quasi un mese», disse Zan Khan. «Vedrai, ti piacerà viaggiare, l'Occidente, conoscerai tante cose nuove. al ritorno potrai restare con la tua famiglia, non li vedi da tanto tempo, e poi studierai, e quando avrai l'età per frequentare l'università, devi essere contento». «Sono contento», disse Iqbal, «ma io voglio rimanere qua, con te e Fatima e Maria, voglio liberare altri bambini schiavi». «Continuerai ad aiutarci», lo rassicurò Zan Khan. «Tu sei troppo importante per noi, lo sai. Ma se riuscirai a diventare un bravo avvocato, ci sarai ancora più utile. E anche per Fatima ci sono grandi novità. «Abbiamo trovato il tuo villaggio, finalmente, e la tua famiglia. Tornerai a casa». Il cuore mi fece un salto nel petto. «Casa mia!» «A malapena mi ricordavo di com'era fatta». «E mia madre! E i miei fratelli!» All'improvviso mi venne da piangere. «Che stupida! Tutte quelle belle notizie e io piangevo. Ma sentivo che stava per finire una parte importante della mia vita. Tornavo a casa, libera. Iqbal sarebbe stato giustamente premiato per tutto quello che aveva fatto. Andava tutto bene. Chi avrebbe mai pensato una cosa del genere quando subivamo i supprusi di Usain? «Sono sicura che piangevo per la felicità». Come passarono in fretta le due settimane successive. Ne ho ricordi confusi, a pezzi, a brandelli, come di certi sogni. La grande casa dipinta di rosa che ribolliva di attività. Tutti che correvano da una parte e dall'altra, presi nei preparativi del viaggio. Giornalisti pakistani e stranieri che volevano sapere del premio. Il giardino che sembrava un bivacco. Com'era triste, eppure pieno di speranza ogni tramonto. Quanto manca? Nove giorni. E Zankan che parla davanti a tre microfoni. Uno sconosciuto che va in giro scattando fotografie a tutti. «Avrei dovuto farmene dare almeno una. Adesso ce l'avrei qui con me». I nostri due cani, spauriti dalla confusione, con la coda tra le gambe. Le donne, con la bocca piena di spilli che cucciano l'abito all'occidentale che Iqbal indosserà per la cerimonia di premiazione. Giacca, pantaloni, panciotto di una bella stoffa blu pesante, perché fa freddo laggiù. Iqbal in mutande, vergognoso, mentre gli provano i pantaloni che mi dice «Cosa guardi tu?» e io gli mostro la lingua. Iqbal, da solo, in piedi al centro di una stanza vuota, a ripetere il discorso che dovrà tenere in Svezia e a Boston, che si impappina ogni sei parole e mi dice «Dai, Fatima, aiutami!» e allora io prendo il testo scritto da Esan Khan e leggendo ancora un po' a fatica gli suggerisco le battute. Ogni giorno, in Pakistan, sette milioni di bambini si alzano prima dell'alba, al buio, lavoreranno fino a sera, tessono tappeti, cuociono mattoni, zappano nei campi, scendono nei cunicoli delle miniere, non giocano, non corrono, non gridano, non ridono mai, sono schiavi e portano la catena al piede. Fino a quando ci sarà nel mondo un bambino privato della sua infanzia, picchiato, violato, nessuno potrà dire «Non mi riguarda». Non è vero, riguarda anche voi e non è vero che non c'è speranza. Guardate me, io ho avuto speranza. Voi, signori, dovete avere coraggio. Quanto manca? Sei giorni. Un acquazzone, violentissimo, l'acqua che corre per le strade, un raro pomeriggio di quiete, un insolito silenzio. La moglie di Esan Khan che mi prende tra le braccia e mi dice «Povera piccola», mi spiega che mia madre non c'è più e che mio fratello maggiore, Ahmed, adesso è il capofamiglia, che è impaziente di rivedermi e che pare abbia intenzione di andarsene lontano, chissà dove, a cercare fortuna in un paese straniero dove ci sia per tutti lavoro e dignità, così ha detto e che porterà con sé anche me e mio fratello minore, Hasan. E allora io entro di nascosto nella camera da letto di Esan Khan e sua moglie, apro il vecchio armadio e là c'è l'unico specchio della casa, ci si può vedere interi, mi guardo bene, forse per la prima volta in vita mia. Mi vedo magra, arruffata e cresciuta. Sono cresciuta, sì, basta guardare come è diventato corto il vestitino che porto, quasi mi scopre le ginocchia. Forse è venuto il momento di indossare la purda. Lo dirò alla moglie di Esan Khan. Eravamo d'accordo che avrei raggiunto la mia famiglia solo dopo la partenza di Iqbal. Mi promisero di tenermi informata di tutto e che se davvero fossi dovuta partire per un paese straniero, prima sarei tornata a salutarli. L'ultima notte che passammo nella grande casa, tutti e due ci alzamo dal letto senza esserci messi d'accordo, ci incontrammo nel salone e parlamo a lungo, proprio come facevamo nel laboratorio di Usain. Parlamo di tante cose, non chiedetemi quali. Il giorno dopo all'alba accompagniamo Iqbal e Esan Khan all'aeroporto. Noi due stavamo sul sedile di dietro. Era una giornata di vento forte. Da una terrazza li vedemmo salire sull'aereo. Ci fecero ciao con la mano, così lontani. L'aereo decollò, il rombo dei motori, e salì sempre più in alto. Iqbal aveva preso il più grande degli aquiloni. avevo il cuore che batteva forte ed era una strana sensazione che mi stringeva l'anima e il corpo. L'aereo sparì all'orizzonte. Chissà com'è l'America, pensai. allora non potevo sapere che non l'avrei rivisto mai più. Mi riportarono a casa. Del lungo viaggio ricordo il furgoncino Toyota che sobbalzava su tutte le buche. Ricordo la campagna a tratti verde, a tratti grigia e allagata. Ricordo gli uomini e gli animali sparsi in giro, chini al lavoro. Ricordo le strade sterrate e fangose. A ogni gruppo di casupole pensavo sarà questo il mio villaggio? Non mi fidavo della mia memoria, ero confusa. L'uomo a cui Esan Khan mi aveva affidata era bravo e simpatico, chiacchierava e chiacchierava per distrarmi, come se avesse capito quel che provavo. Avevo voglia di tornare dai miei e nello stesso tempo mi dispiaceva. Arrivamo. Mio fratello Ahmed era diventato un uomo. Asan, il piccolo, era più alto di me. Dentro la capanna un po' alla volta riconobbi oggetti che un tempo mi erano stati familiari. Ritrovai distinto la strada per il pozzo che avevo percorso tante volte cercando di mantenere la brocca dell'acqua in bilico sulla testa. Anche il bufalo sembrava lo stesso solo più vecchio e spelacchiato. Cucinavo, pulivo, aiutavo nei campi come una volta aveva certamente fatto mia madre. Del lungo viaggio in cerca di fortuna che ci aspettava sapevo poco e non mi interessava. Passavano i giorni in campagna sembravano molto più lunghi. ricevetti una lettera di Maria corsi a leggermela nel canneto diceva qui tutto bene che Esan Khan aveva telefonato una volta dalla Svezia altre due dall'America che aveva parlato anche con Iqbal che stava bene che Iqbal aveva tenuto il suo discorso in una città chiamata Stoccolma e non si era impappinato affatto e alla fine quei signori vestiti bene che venivano da tutto il mondo si erano alzati in piedi e l'avevano applaudito che anche in America a Boston gli avevano fatto grandi feste e tutti lo volevano conoscere e quando gli avevano consegnato il premio c'erano delle signore che piangevano e che Iqbal si era lamentato perché le scarpe nuove gli facevano male ai piedi che mi salutava tanto che stavano per tornare che Iqbal sarebbe andato per un po' di tempo dalla sua famiglia perché si avvicinava la Pasqua una festa che per i cristiani come Iqbal è importante quanto il Ramadan per noi che sperava che anch'io stessi bene e com'era il mio villaggio che mi avrebbe scritto ancora Baci Maria Nella busta c'era anche un articolo ritagliato da un giornale americano non sapevo leggerlo naturalmente ma nel testo trovai diverse volte il nome di Iqbal e poi c'era la sua foto e la guardai a lungo anche se era scura e confusa passarono altri giorni tanti me li segnavo con un gessetto in un angolo del muro per tenere il conto passarono due settimane poi un mese e l'uomo sciancato che una volta ogni dieci giorni girava tra le capanne portando e ritirando la posta non si vedeva partiremo presto mi disse mio fratello Ahmed finito il lavoro sedevo davanti alla porta di casa a guardare il viottolo che portava al villaggio mi hanno dimenticata pensavo pensavo agli aquiloni a Iqbal dritto in piedi accanto al tappeto tagliato a quella notte che avevamo strisciato fino alla tomba per aiutarlo a quel pomeriggio al cinema di Laore pensavo che non volevo andare in un paese straniero brutto e lontano due giorni prima della data fissata per la nostra partenza verso l'Europa vede in lontananza lo zoppo arrancare a fatica attraverso i campi fangosi con la sua borsa della posta a tracolla e il bastone a cui si appoggiava che affondava di un palmo nella mota c'era una brutta luce quel giorno livida e cattiva le nubi erano basse sull'orizzonte e tutto sembrava nero e macchiato rimasi a guardarlo per mezz'ora veniva avanti piano piano non dico che ebbi un presentimento semplicemente a un certo punto le lacrime mi sgorgarono dagli occhi così da sole grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti